Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in una nuova puntata di Sputtantubo! Allora, mi trovo a Roma e sono qua in piscina e fai pure vedere la location. Insomma, sono qua in piscina e oggi ho proprio voglia, sento un'esigenza interna di sputtanare di nuovo YouTube fa cagare, perché YouTube fa cagare mi ha fatto di nuovo incazzare. Sapete che in questo periodo ci sono su YouTube un po' di casini, ci sono tutti quei casini e un attimo che metto questi capelli, sono a posto i capelli, perché questo fatto della piscina, il caldo, lo spray, cioè vabbè, i capelli se non sono a posto non fateci caso. Comunque, praticamente sapete che c'è stato tutto quel casino con Mr. Hyde, Mr. Flame, YouTube fa cagare e tutto questo bordello. Anch'io ho partecipato, in realtà io ho partecipato non perché c'entrassi qualcosa, ma perché Billy Foster mi aveva chiesto di fare inizialmente un video in cui prendevo in giro Mr. Hyde nel suo canale, uno spezzone. E così, in seguito a quello, mi sono interessata alla vicenda. E quando YouTube fa cagare ha fatto il video risposta a Mr. Hyde, allora, praticamente ho scritto un commento sotto al video di YouTube fa cagare che dava a Mr. Hyde del truffatore e poi avevo fatto anche una live in cui ho praticamente ripetuto gli stessi concetti, comunque insomma sotto al commento del video gli ho scritto, Hyde ha sbagliato, ma ciò che ha combinato con Araclis non c'entra col truffare che significa ben altro. Al tuo posto farei attenzione ad usare certe parole perché cadi nella diffamazione. Hyde è un plebeo, ma è una brava persona. Tu resti il solito falsone e bullo. Ho usato le parole falsone e bullo perché è quello che io penso di YouTube fa cagare che tutti voi sapete, no? E poi infatti ho fatto anche quella diretta in cui ho detto le stesse cose e voi direte cosa è caduto poi? È caduto che il signorino Simone Tutubo YouTube fa cagare si è offeso per il mio commento e mi ha scritto in privato e mi ha anche chiesto l'amicizia su Facebook e poi dicevo strano che Simone mi chiede la notizia e mi ha scritto un commento, no non mi ha scritto un commento, mi ha scritto in privato allora adesso io pubblicherò lo screen del messaggio privato che mi ha mandato YouTube fa cagare toglierò il suo nome solo perché ho paura che mi segnali il video per violazione di privacy so che è comunque una violazione di privacy ma non me ne frega un cazzo cioè puoi anche denunciarmi che con la tua denuncia mi ci pulisco il culo quindi io lo screen ve lo pubblico, praticamente lui in privato, tutto offeso mi ha scritto darmi del bullo non è diffamazione vero? cara diva mi piacerebbe tanto parlarti a quattro occhi prima o poi ok e potete leggerlo qui e a me sembrava una frase detta in tono un po' minaccioso cioè non minaccioso, pensate proprio di minaccia, però da galletto, no? una frase un po' da galletto, un po' da bulletto, sì, no? prima o poi ne parleremo di persona, prima o poi ne parleremo a quattro occhi vorrei tanto parlarti da quattro occhi, vabbè, fatto sta che probabilmente lui sta frase l'ha scritta per farsi figo senza sapere che due giorni dopo io sarei partita per Roma e quindi io gli ho risposto giovedì vengo a Roma se vuoi ragazzi è sparito è sparito, si è volatilizzato, è evaporato come Mr. Hyde quando deve pagare avete presente, no? è evaporato, ha visualizzato senza rispondere e dopo un po' di giorni io gli ho di nuovo scritto, esattamente mercoledì sera gli ho scritto, ehi allora, io sono a Roma fino a domenica e lui non ha nemmeno visualizzato cioè, voi ditemi perché uno deve tirare il sasso così, no? e poi nascondere la mano perché si caga sotto io dico, YouTube fa cagare ma hai perso le palle per caso? hai perso le palle? non hai il coraggio di vedermi di persona? cioè prima mi scrivi, ah voglio parlarti a quattro occhi poi quando ti dico, ok, va bene, vediamoci tu sparisci nel nulla sai che cosa ti dico? sai che cosa ti dico? escile esci le palle, dai esci le palle e presentati fai vedere che sei un vero uomo e non un bulletto di paese di quelli che si offendono cioè di quelli che bullizzano gli altri e poi si offendono quando vengono bullizzati perché, cioè voi ditemi anche questo, no? cioè, ditemi come può scherzare chi senso ha che uno YouTuber che è nato criticando gli altri perché lui è nato criticando gli altri voi ditemi perché si offende quando critica lui cioè voglio dire tu ti offendi al punto che mi scrivi in privato quando tu sei il primo a criticare tutti e sei nato così e ti sei fatto strada così in un modo ignobile perché criticare qualcuno ogni tanto ci può anche stare ma crearsi un personaggio diventare famoso perché critici gli altri è comunque una cosa ignobile e tu l'hai fatto e ti offendi però se criticano te e ti fai pure il figo bullo ah, voglio parlarti a quattro occhi e poi sparisci nel nulla cioè questo è non avere i coglioni i coglioni i coglioni YouTube fa cagare nella vita ci vogliono i coglioni le big balls quindi vedi di uscirli questi coglioni perché se non li esci sarai considerato un codardo da tutta YouTube Italia e sicuramente lo sarai considerato sarai considerato tale da me e dai divetti e dalle divette quindi esci le YouTube fa cagare e con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e alla prossima puntata di sputtantubo